Musica Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Sono felicissima di filmare questo video finalmente E questo sarà il mio summer reset Ossia resettare tutto per l'estate E sono troppo felice perché io adoro tutte queste cose Cioè l'estate è il mio periodo preferito Perché è ovvio E quindi vi porterò con me in questo reset La prima cosa che voglio fare oggi è fare la spesa Perché uno devo farla E secondo mi dà l'idea proprio di riniziare bene Cioè facendo la spesa compro le cose che voglio E mi sembra proprio di iniziare Di avere tipo un inizio E quindi questa è la cosa che voglio fare assolutamente Sto tipo morendo di caldo Ma letteralmente cioè Fa caldissimo Però ce la dobbiamo fare Dobbiamo essere forti E riuscite a fare tutto Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Per vedere altri video di questo tipo Mi raccomando Benissimo Spesa fatta Quindi la prima cosa che volevo fare l'ho fatta Ora voglio andare per negozi così Per cercare un po' di cose Anche perché dovrei partire Settimana prossima Quindi volevo vedere se trovo qualcosa per il mio viaggio Quindi questo è quello che faremo adesso Settimana cosa che volevo fare l'ho fatta Per cercare un po' di cose Sono tornata a casa Dopo aver fatto questo giro così Sono andata in giro veramente tipo per ore Ore Guardando le cose Prendendo cose inutili Sapete quelle cose inutili Che sono tipo carissime Questo coso like Cioè sono tipo dei contenitori Piccoli per mettere le cose E poi sembra tipo coordinato no? Questo blu Questo blu Azzurro Non so neanche più che coloriamo Però è tutto così cute Niente mi mette felicità questa cosa Stupidity Comunque ora volevo tipo mettermi a Iniziare tipo a travasare le treme Le cose qua dentro Perché non so perché A me è una cosa che mi mette tipo felicità È un'attività che mi piace fare Svegli giuli Ce l'ho presi felicitissima E del fatto che poi Mi sarei messo a fare questo Cosa Your body got me crazy Your body need a license Your body are too tight Anybody who got eyes can't see She just wanna dance and tease 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 Listen You'll be missing Il prossimo step nel mio risetto è quello di fare un decluttering però digitale. Quindi non nel mio spazio ma nel mio telefono e ipad perché ho accumulato davvero un sacco di clip, video, foto e cose. Quindi dovrei un po' riguardarle, cancellare le cose eccetera. Poi vorrei organizzare anche tutti quei file, documenti, cose che sono lì e non si capisce perché. E quindi devo fare proprio un po' di riorganizzazione. Questo è quello che farò adesso. Ciao! 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 La prossima cosa che faccio e che di solito mi piace fare all'inizio di una nuova stagione è quella di creare una vision board, ossia un collage di foto che praticamente un po' rappresentano come vorrei che sia la mia estate. Come vedete io uso Pinterest perché Pinterest è praticamente la mia vita, nel senso che mi piace un sacco. Adoro Pinterest perché ci sono un sacco di immagini stupende e niente mi piace prenderle tipo come inspiration di cose che mi piacerebbe fare. Quindi ora creerò la mia piccola vision board. Ciao! 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 La prossima cosa che farò sarà quella di creare una summer bucket list, ossia una lista di tutte le cose che mi piacerebbe fare in estate. Quindi è una specie di lista dove segni tutto quello che vuoi fare. Qui puoi veramente scrivere di tutto. Lo faccio anche per non ritrovarmi a fine estate con il pensiero di non aver fatto certe cose. Ecco, questa è la mia lista finale. Io ho scritto veramente, ma veramente troppe cose. E ovviamente non intendo provare a fare tutte queste cose perché è impossibile. però se magari un giorno non so cosa fare posso venire qui e prendere l'idea per un'attività da fare.